Tonino Bonifacio oggi lunedì 21 giugno e la sua sala giochi riprende la marcia dove si era interrotta da settembre tantissimi mesi di chiusura e proprio questo settore in particolare è stato tra i primi a chiudere e adesso poi una breve riapertura estiva. Poi un nuovo lockdown invernale per tutto questo periodo che significa tornare qui dentro per lei intanto che dal 1989 ha un videolight, ha portato i videolight a sciacca, che significa? Ma significa riniziare dall'inizio e dare spazio ai giovani per la libertà quindi secondo me fare entrare di nuovo i giovani nella sala giochi quando sarà anche che ritornano a ballare è la libertà che è un passo in avanti che i vaccini ci stanno permettendo di continuare a lavorare e la speranza che vada così. C'è stato mai un momento in cui ha pensato che tutta la sua società per la quale ha investito per tanti anni e che a causa proprio del coronavirus è un momento di socialità, la sala giochi di per sé si viene per giocare però è un momento anche per fare socialità e quindi per questo proprio colpito dal virus e insomma la sua attività in qualche maniera poteva non farcela, c'è stato mai un momento che ha pensato questo? Guarda io intanto ringrazio lo Stato che a noi gli aiuti li ha mandati E' bello sentirlo? No io devo dire la verità a noi gli aiuti li ha mandati anche perché siamo rientrati nei parametri che loro ci hanno chiesto quindi hanno mandato gli aiuti No non ho avuto mai la cosa di dire perdo tutto anche perché ringraziando Dio noi non siamo stati mai chiusi totalmente perché abbiamo lavorato con il bar fuori, la fortuna nostra è stata questa di avere il bar fuori quindi bene o male girare un pochettino E speriamo che si continui ad andare avanti Questa sala giochi è un luogo al chiuso, in questo momento si accede con mascherina, ci sono altre precauzioni all'interno? Sì noi igienizziamo soprattutto i giochi, le slot, le VLT, ogni volta che si rasta un cliente igienizziamo tutti i pulsanti, passiamo le spugnette adatte appunto per questo settore, le secche le igienizziamo si entra con la mascherina, cerchiamo anche di far entrare a scaioni, come vedi c'è l'aria condizionata accesa quindi manteniamo abbastanza fresco il locale Che cosa si sente di dire ai ragazzi che arriveranno da oggi, da stasera, ritorneranno a giocare qui in questo luogo di aggregazione? Ragazzi siamo qua che vi aspettiamo, iniziamo a giocare, a vivere con i vecchi biliardi, i vecchi calciobarilla, la freccetta Perché qui dentro ci sono tanti giochi tecnologici ma ci sono anche i classici, quelli senza tempo Infatti ci sono per tutti, dal bambino al più grande, abbiamo le slot, abbiamo il VLT, però l'intramontabile sono i biliardi, il gioco della freccetta, il calciobarilla Quindi non solo i ragazzi, aspettiamo anche i genitori? Certo, i genitori devono venire anche a giocare e a riprendere la vita normale Grazie